Una storia più che cinquantenaria è quella del Circolo Figgini di Maggianico intitolato alla memoria di due fratelli partigiani del Rione ma una storia che finalmente ha una narrazione compiuta un libro che sarà presentato il prossimo 26 ottobre Il libro è strutturato ovviamente in due parti abbiamo rovesciato l'ordine cronologico la prima riguarda il Circolo addirittura si comincia dal Circolo domani poi si racconta la storia del Circolo Figgini appunto dalla sua costruzione addirittura nel 1910 fino ad oggi e nella seconda parte invece si raccontano le vicende dei due fratelli Figgini cioè Costantino, Giuseppe, Tino e Pino che hanno dato due fratelli partigiani uno morto nel 1944, il 31 dicembre l'altro il 26 aprile del 1945 proprio a pochi metri da qui di fronte al parco di Villa Gomez e il libro appunto si conclude con la morte di Costantino ma collegandosi al presente perché è un libro ovviamente circolare parlando di un Circolo e come piacciono le storie che non sono finite non piacciono le storie diciamo di secoli fa ma mi piace raccontare di persone vive di organizzazioni vive come in questo caso il nostro Circolo questo libro è un appuntamento importante per il nostro Circolo perché finalmente racconta la storia sino dagli albori di questo edificio di questo posto e lo racconta in modo documentato ci serve questo documento per avere la memoria storica rivolta al presente e al futuro di questo nostro Circolo che cerchiamo di sostenere perché è un bene prezioso per il Rione e non solo